Congedo mestruale, il dibattito è aperto. Le valutazioni in corso al liceo Teresa Ciceri di Como, l'ex istituto magistrale che oggi comprende tre indirizzi, linguistico, scienze umane e musicale, hanno innescato sui social reazioni diverse. Quasi 300 i commenti sotto l'articolo pubblicato sul sito di ETV. Tra favorevoli e contrari, la proposta è finita sotto i riflettori. Al momento nulla è deciso in città, deve ancora riunirsi il comitato studentesco, le decisioni sono attese per i prossimi giorni. Se la richiesta venisse formalizzata e poi accettata, sarebbe uno dei primissimi casi a livello nazionale. Il primo liceo in Italia a riconoscere il congedo alle studentesse è stato l'artistico Nervi Severini di Ravenna alla fine dello scorso anno. I primi due certificati sono stati presentati a rientro dalle vacanze di Natale, ha confermato il dirigente scolastico Gianluca Dradi. Il consiglio d'istituto, negli ultimi giorni di dicembre, ha dato avvio all'iniziativa presentata dagli alunni che prevede, per le ragazze che soffrono di dolori forti durante il ciclo, tali da interferire con il regolare svolgimento delle attività, la possibilità di assentarsi per un massimo di due giorni al mese, dietro presentazione a inizio anno di un certificato medico. Questi due giorni giustificati non rientrano nel conteggio del monte ore massimo di assenze consentite per considerare valido l'anno scolastico. Sulla scia di quanto chiesto e ottenuto a Ravenna, valutazioni sono in corso anche al liceo Ciceri di Como, dove, su suggerimento del professore di scienze motori Vittorio Mottola, che la considera una richiesta sana, rispettosa e di civiltà, gli studenti si riuniranno a breve. Il dibattito e le opinioni a confronto sull'ario ricalcano quanto avvenuto a Ravenna. Da poco abbiamo modificato il nostro regolamento, che già prevedeva una deroga sulla soglia massima di assenze di fronte a malattia certificata, introducendo questa ulteriore specifica, spiega il preside del liceo artistico Nervi Severini, Gianluca Dradi. E a chi ha ribattuto dicendo che non si tratta di un provvedimento necessario, il preside ha replicato che questo intervento va oltre la singola patologia, ma è un modo per curare il benessere psicologico delle studentesse, soprattutto in un periodo storico come quello attuale, con gli strascichi della pandemia da Covid. Bisogna ascoltare, aggiunge, i loro bisogni e far sentire che la scuola c'è. Oltretutto questo percorso è utile per promuovere le competenze sociali e civiche di cittadinanza, chiarisce Dradi. Le studentesse hanno infatti studiato la questione, l'hanno portata in consiglio d'istituto raccogliendo 16 testimonianze, hanno seguito l'intero itere ed è giusto che tale percorso trovi uno sbocco positivo. Così, conclude, gli studenti imparano che la democrazia può funzionare.